Espiritu de Veruela, la scuola e i seminari di composizione musicale di cui abbiamo parlato tanto, ecco che fine ha fatto? Lo chiediamo al direttore artistico, il maestro Diodato Arru. Dunque, al netto della indifferenza e della colpevole disinteresse di taluni amministratori rispetto a questo grande progetto culturale che era assolutamente attagliato alla nostra città e al nostro territorio con anche contributi di supporto di lanzicchenecchi telematici. L'espiritu de Veruela è purtroppo migrato a Malta, purtroppo per la città di Alghero e si sta sviluppando per ciò che riguarda la direzione artistica in due aspetti, l'aspetto didattico e l'aspetto concertistico, similare alle cose pensate ad Alghero. L'aspetto didattico sarà fatto nella città di Medina, che è la seconda città di Malta, mentre invece l'aspetto concertistico verrà concentrato più sulla capitale della Valletta. È una diversificazione che è dovuta all'organizzazione in loco che ha deciso di dare a entrambe le città una visibilità. Per ciò che riguarda la direzione artistica, il mio lavoro e il mio ruolo di direzione artistica, il programma è assolutamente uguale a quello pensato per la Sardegna e per Alghero. Sono uguali anche le date, perché l'autunno del 2013, il tardo autunno e la primavera del 2014, sono le date che, come ad Alghero, saranno quelle che vedranno l'evento svolgersi a Malta. Devo dire, così devo dire infine, che questo sarà presentato a breve in una conferenza stampa che si trarà a Roma, in cui verranno spiegati tutti i dettagli e tutte le parti dell'operazione. Intendo occuparmi, d'ora in poi, solamente degli aspetti artistici, culturali e musicali del progetto. La sua è una delusione più da Algherese che da Artista, perché da Artista continuerà a seguire il progetto in prima persona, però certo da Algherese c'è un po' di amaro in bocca. Ma assolutamente, mi sembra che qui si respiri dal punto di vista culturale un clima paludoso, infame. Forse si dimentica, per esempio, tutto ciò che è stato fatto a livello nazionale e internazionale dalla nostra associazione. Si dimentica ciò che ad Alghero è stato fatto dall'84 al 2008. Sono arrivati prime esecuzioni assolute mondiali, sono arrivati musicisti, compositori del calibro di Salvatore Sciarrino, Franz Marie Witt, Teresa Catalan, Niccolo Castiglioni, Diego Fernandez Maddaleno, una serie di nomi. Alghero era diventata, era diventata in questi anni, un punto di riferimento per la cultura contemporanea, della musica contemporanea europea, perché qui si è sviluppata la creme della creme della musica contemporanea e credo che fosse e sia una città, un posto ideale per ospitare eventi di questo tipo. Evidentemente certe decisioni o certe programmazioni di tipo politico-culturale vanno in tutt'altra direzione, vuol dire che siccome non siamo né in Bolivia né nella Romania di Chaușesco non ci esime dal dissentire fortemente da questa impostazione, che mi sembra un rammarico che è soprattutto nei confronti della città che perde questa occasione di sviluppo, ripeto, culturale e turistico. Questo è un evidente rammarico che non si può sottacere, non si può nascondere. Il Spirito di Avorella non sarà comunque l'ultimo progetto del maestro Arro Adalghero? Io credo adesso di sì, perché finché si respira questo clima, certamente dopo un anno e mezzo di vana interlocuzione con taluni amministratori, credo che insistere su questa cosa sia letale, anche poco dignitoso. Nel momento in cui l'interlocutore è sordo a certe istanze, perché ne ha delle altre a mio avviso assolutamente risibili, mi pare superfluo continuare a cercare di portare nella mia città, in questa città, manifestazione di questo valore, anche perché si coinvolgono persone che hanno delle aspettative che poi vengono vanificate, il che sul piano personale mi sembra una cosa assurda. Altro è l'attività nostra, di tipo musicale, che va avanti in Italia e all'estero. Adesso, in tardo autunno, ci sarà la prima esecuzione italiana del mio pezzo per flauto e archi con l'Orchestra de Champs de Lyon. La conclusione di un lavoro che ho scritto per un quartetto d'archi, figlio di un lavoro fatto col drammaturgo José Sinisterra in un seminario drammaturgico che si chiamava La scena senza limiti. E poi, nel 2014, sarà un anno in cui cadono anche qui dieci anni dal progetto Interazione, il progetto Musica, Pittura e Spazio, che vede il protagonista e il sottoscritto, il pittore Nicola Marotta e l'architetto Antonello Marotta. Questo progetto, che ha avuto una grande eco anche in Sardegna, ad Alghero e a Cagliari, forse anche questo qualcuno non se lo ricorda, andrà fuori, abbiamo delle interlocuzioni con importanti enti, per esempio su tutta l'Accademia d'Ungheria a Roma, quindi lo splendido Palazzo Falconieri, e un enti a Firenze e a Torino. Quindi questo progetto dovrebbe girare nel 2014 proprio per festeggiare i dieci anni, in un contesto di continuità e in un contesto di progettualità artistica che ha avuto, questo sì, e questo non si può impedire, ad Alghero la prima esecuzione e la prima fase. E non sarà un ritorno in città? No, assolutamente, ripeto, non ci sono le condizioni in questo momento, per lo meno per ciò che mi riguarda. Anche per questo ultimo progetto? Assolutamente no, perché intanto questo è stato fatto ad Alghero, quindi siccome io credo che l'importanza delle cose sta nelle cose che uno fa, sta nella sua storia, nella propria storia, nella storia in quello che ha fatto in questo campo, quindi voglio dire, sollecitare persone che ignorano o fanno finta di ignorare, non so, mi interessa poco la motivazione, l'importanza, la valenza di certi progetti e di certe attività, mi pare che sia assolutamente inutile, irrisibile. Diciamo che speriamo per la città e per i progetti nostri in tempi culturali forse migliori.